Buonasera a tutti, mi sentite? È aperto il microfono? Sì, direi di sì. Siamo qui questa sera per parlare di informazione e con un tema che è particolarmente complesso anche per noi che nell'informazione lavoriamo e di informazione parliamo tutti i giorni. Informazione al bivio è il tema. Siamo qui con Giorgio Merlo che è il vicepresidente della Commissione Vigilanza della RAI, alla mia sinistra abbiamo Vincenzo Vita della Commissione Cultura del Senato, alla mia destra abbiamo Stefano Tallia che è il segretario dell'Associazione Stampa Subalpina e poi abbiamo Franco Borgogno in rappresentanza delle emittenti locali, lui è responsabile di videogruppo. Allora io ovviamente non posso non partire dal tema di questi giorni, lo scandalo di Bologna, la presenza ai dibattiti comprati da consiglieri comunali e regionali che in questo modo credono di acquistare più visibilità, hanno più visibilità, partecipando a dibattiti che invece dovrebbero essere a discrezione di chi conduce i programmi. Io partirei da Vincenzo Vita, vorrei sapere che messaggio ci lancia questo, visto che parliamo di informazioni al bivio, quindi anche di crisi, in questi giorni i temi si rincorrono sulla crisi, sul declino anche del giornalismo come mestiere. Intanto un saluto, grazie per questo invito, è un'abitudine annuale, l'anno scorso per un altro impegno all'ultimo, mi ricordo non ero riuscito e ancora adesso ne ho vergogna, quindi vi chiedo perdono ex post. La domanda è molto pertinente perché è come un ipertesto la tua domanda, nel senso che ne apre tanti altri problemi. Intanto, ogni tanto, vorrei dire il destino poi si incarica di dare ragione a chi in fondo ce l'ha avuta, noi ricorda Giorgio, un carissimo amico insieme, ci battemmo un po' di anni fa, eravamo tra il 99 e il 2000, per quella legge, la par condicio, che poi è stata bistrattata da molti che neanche l'avevano forse letta, una legge che introduceva alcuni principi molto elementari, tra cui ecco il tema. La gratuità, cioè il concetto della gratuità, ovvia, persino non vorrei offendere gli esimi rappresentanti del mondo giornalistico, del mondo associativo anche, sindacale, dovrebbe essere quello che tu dicevi, ovvio. È il giornalista che sulla base delle circostanze della notiziabilità, per così dire, decide se un'intervista con questo o quel politico è utile. Non un rapporto mercantile. In quella legge c'era proprio un punto che fu oggetto di una discussione feroce, per cui la comunicazione politica doveva essere iscritta dentro il principio sacro dell'informazione libera e non invece a pagamento. E fu una battaglia. Perché vi ricordo che la destra dell'epoca allora era l'opposizione, non c'era ancora il PDL, ma insomma no, c'era N, c'era Forza Italia. Fecero una battaglia per ottenere poi che cosa? Perché poi un vantaggio del tutto relativo, tu penso che lo potrai sottolineare quella manciata di allora lire e oggi euro che vengono dagli spot e poi dalla degenerazione di cui la vicenda bolognese è testimone. bisogna dire basta, proprio basta. Ci deve essere un impegno etico nella politica. Non ha senso che chi fa attività politica istituzionale abbia un rapporto di ingaggio con un organo di informazione per cui la sua parola, che conta o non conta a seconda di quello che riesce a fare, oltre che a dire, sia invece oggetto di un accordo commerciale. Questo è un punto chiave. Io mi auguro che vi sia una reazione. E che anche l'emittenza locale, che io capisco vive oggi, poi magari ne parliamo con la tragedia adesso del passaggio al digitale in un momento di difficoltà enorme, però non supponga che questa sia la scorciatoia. Cioè non sopravvive l'emittenza locale con quei due, trecento euro. No, non sopravvive. Anzi, non sopravvive e per di più l'effetto di immagine generale diventa del tutto mediocre e anche del tutto contraddittoria con lo spirito genuino di quell'emittenza locale che nacque proprio per rompere i tabù, rompere l'omologazione, eccetera, eccetera. Quindi credo che dobbiamo fare una battaglia in tutte le sedi, con le diverse competenze che abbiamo, perché si metta fine a questa vicenda. Io non credo, lo faccio senza fare adesso il detective, ma non credo che la vicenda emiliana sia isolata. Credo purtroppo che sia un brutto andazzo. Ed è esattamente la degenerazione di quella discussione che ci fu all'epoca. Io me la sono ricordata come se fosse ieri, perché quella cosa gli spotta pagamento, in realtà poi ha portato a questa forma di degenerazione. Dallo spot si è passati, insomma, in fondo che male c'è, un programma pagamento, sempre i soliti ospiti, insomma, tutte cose che abbiamo visto. No, è un problema di odontologia, di correttezza, di eticità nel rapporto tra politica e informazione, altrimenti la politica che già è messa malino finisce anche peggio. Ecco, questo è il mio parere molto secolo, anche detto a diversi che mi chiedevano e lo faccio qui con grande determinazione. Grazie. Giorgio Mello. Sì, la parte contenutistica l'ha già sviluppata, Vincenzo la condivido. C'è però un aspetto che noi, e questo lo dico non per esercitarci nella solita polemica, ma dobbiamo cogliere e dobbiamo correttamente propagandare. E' che il tema dell'uso pubblico delle risorse, anche dai partiti, dai movimenti che rifiutano legittimamente qualunque forma di destinazione pubblica, poi vediamo che queste risorse vengono spese, come tutti gli altri partiti, per la medesima finalità. Allora, sotto questo aspetto è bene sottolineare con forza e determinazione che anche la vicenda bolognese, ma non soltanto quella bolognese, conferma che c'è un mal costume diffuso che non è riconducibile a qualche esperienza politica o a qualche persona. È un mal costume diffuso che va rimosso e che contagia, guarda caso, tutte le forme di rappresentanza politica. Sotto questo aspetto, però, e chiudo su questo primo spot, credo che il capitolo dell'emittenza locale noi non possiamo ulteriormente post-anticiparlo o non affrontarlo. Il capitolo dell'emittenza locale del nostro Paese, risorse adeguate all'emittenza locale da un lato, offerta ai cittadini di un'emittenza che non è riconducibile soltanto ai due moloch esistenti, è un fatto di democrazia. Allora, su questo versante, sul capitolo emittenza locale, e poi su questo ne parleremo dopo anche con l'amico Progonio, ma noi ci giochiamo una parte, non soltanto dell'offerta radio-televisiva, ma ci giochiamo una parte, un pezzo di democrazia all'interno del nostro Paese. Ecco perché, allora, noi abbiamo dedicato molto tempo, poi ne parleremo dopo, sulla governance della RAI, su come salvare la RAI, sulle nomine e tutto ciò che riguarda il servizio pubblico. Purtroppo, e qui lo dobbiamo dire con un pizzico di autocritica, noi abbiamo inconsapevolmente, ma indirettamente, trascurato un aspetto determinante, un pezzo determinante della democrazia informativa del nostro Paese, che è quella riconducibile all'emittenza locale. Purtroppo è un settore oggi in crisi, è un settore che rischia di chiudere, dove si rischia di chiudere molti emittenti, ed è un settore che ogni qualvolta chiude anche solo una piccola emittenza locale, si spegne un pezzo di democrazia. Ecco perché il capitolo emittenza locale l'abbiamo posto noi a livello parlamentare, soltanto noi, per ovvi motivi. Credo che su questo versante sarebbe bene che anche nel dibattito sulle primarie, accanto allo sventolio della carta d'identità, noi prestassimo un pizzico di attenzione in più su questo versante, perché ha a che fare con la democrazia del nostro Paese. Ecco Stefano, io rimarrei sempre sullo stesso tema, perché vorrei sentire i vostri quattro punti di vista. Il sindacato come può vigilare su questo? E comunque Vita diceva, secondo me non è un fenomeno isolato, ecco tu come la pensi? Perché ritenere che questo non sia un fenomeno isolato è ritenere che siamo in una situazione, a mio avviso, molto grave, non so come la pensi tu. Sì, la situazione, indubbiamente, intanto buonasera a tutti. Provo a rispondere in maniera ordinata, cercando però di mettere un pochino d'ordine, perché se no uno si sveglia e dice ma che cosa succede in questo Paese? In questo Paese succede che per alcuni anni, molti anni possiamo dire, a parte alcune lodevoli eccezioni, devo dire che due sono qua rappresentate, Vincenzo Vita e Giorgio Berlo, ci siamo un pochino dimenticati dell'esistenza nel mondo dell'informazione, nel campo dell'informazione, di un problema enorme, colossale, vale a dire il conflitto di interessi, che da un certo punto in poi, dopo essere stato lungamente al centro dell'attenzione, del dibattito politico e culturale di questo Paese, è stato, diciamo così, per ragioni varie, derubricato. Io utilizzerei dei conflitti di interesse, cioè utilizzerei il plurale, che però intanto sono stati lì e hanno continuato a produrre danni nel sistema informativo di questo Paese. Quello che noi vediamo accadere oggi in Emilia Romagna, e che forse, io non ho le prove, non faccio il detective, ma riguarda anche altre regioni, è uno dei tanti mali frutti, diciamo così, del conflitto di interessi. Perché cosa accade? Quello è esattamente l'esempio sbagliato di come la politica può aiutare quel sistema, il sistema dell'emittenza locale. Magari dopo, centriamo nel dettaglio, qua in Piemonte viviamo un'emergenza molto grande, molto grave, noi rischiamo la chiusura di decine di emittenti da qua alla fine dell'anno o nel prossimo anno, se non vi sarà un intervento legislativo forte. Allora, il problema dell'emittenza locale non è quello di avere i 100, 200, 500 euro della comparsata, o dico anche della pubblicità istituzionale, che per carità ha una sua importanza. Il problema dell'emittenza è quello di avere un intervento di legge che rimetta ordine in quel settore, che rimetta le aziende in grado di competere sul mercato pubblicitario, di avere risorse, abbiamo bisogno di un mercato ordinato. Noi oggi siamo una situazione nella quale il passaggio al digitale terrestre ha oscurato molte di queste emittenti, è stata la Repubblica, ha proprio fatto un'inchiesta qualche giorno fa dimostrando tutti i problemi anche tecnologici che esistono, perché quella è una tecnologia fallace che non funziona. Al tempo stesso gli emittenti hanno dovuto fare dei grandi investimenti per ammodernare gli apparati trasmittenti e in più sono finiti anche al fondo del telecomando, quindi vedendo così ridurre i loro investimenti pubblicitari. Allora noi oggi abbiamo un'emergenza, che non è un'emergenza che riguarda solo il nostro piccolo mondo dell'informazione, ma come diceva Giorgio Merlo riguarda la democrazia, riguarda le voci che noi abbiamo la possibilità di ascoltare in questo paese. Allora questo è un tema del quale la politica deve farsi carico. Allora è serio, ma non abbiamo tantissimo tempo per agire, perché ripeto, molte voci rischiano di chiudere. Allora ci vuole uno sforzo corale da parte di tutti, naturalmente anche da parte delle associazioni datoriali. Perché insomma questa è la situazione nella quale ci troviamo. Allora Franco, tu qui sei in rappresentanza di questa realtà. Al di là della crisi degli emittenti locali, di cui parlerei poi dopo, dal di dentro, tu come lo vivi un fenomeno del genere? Ti sembra plausibile, ti sembra accettabile, è una leggerezza o un fenomeno che può essere più diffuso di quanto uno possa immaginare? Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Allora, no, io vedo un problema gravissimo, inaccettabile. Innanzitutto credo che più che il sindacato dovrebbe essere l'ordine in questo caso a intervenire, ad accorgersi per primo del problema, l'ordine dei giornalisti. C'è poi una situazione molto banale, molto pratica, molto spiccia, per cui qualunque tipo di azienda, non fa eccezione un editore, nel momento in cui aumentano le difficoltà, diminuiscono vorticosamente gli introiti, va a prendere i soldi là dove ci sono e in questo caso se ci sono delle disponibilità con contratti, perché poi c'erano dei contratti regolarmente firmati, questa è la cosa più assurda forse di tutte, vanno a prenderli. Cosa sbagliatissima, ma che si spiega anche in questo modo. Io sono arrivato alla televisione da un anno, ho fatto prima tutti i settori dell'informazione, carta stampata per dieci anni, internet per molto tempo e ancora lo faccio, uffici stampa, ora anche la tv. Devo dire che i tentativi, e non solo da parte della politica, da parte di soggetti di vario tipo che abbiano comunque interesse a farsi conoscere e a comunicare qualcosa, i tentativi per arrivare a poter parlare con la gente senza che questo risulti come pubblicità, ci sono, ci sono sempre stati, ce ne saranno ancora. È ovvio che più un settore è forte è più in grado di respingerli. Questo proprio per stare molto, molto terra a terra. In una situazione di difficoltà è più facile che qualcuno scivoli e si lasci conquistare, diciamo. Più in generale io credo che l'abitudine sia abbastanza diffusa e non credo che sia diffusa soltanto nelle tv locali. però per abbastanza diffusa, parlando dell'Italia, parlando dell'intero sistema dell'informazione, non credo che sia così diffuso qua da noi, in particolare per quello che riguarda l'emittenza locale. Sull'emittenza locale, al di là di tutte le cose dette che sono condivisibili, io aggiungo una cosa che era sottintesa in qualche passaggio ma che vorrei rendere chiara. L'informazione televisiva locale, più ancora che quella sulla carta stampata che nella nostra regione è diffusissima, storicamente radicata e molto importante, però ha un elemento in più a mio parere. L'informazione locale televisiva offre un servizio pubblico. Per servizio pubblico intendo proprio la possibilità per molte persone che non riescono ad accedere o a internet o alla carta stampata, soprattutto di questi tempi, perché comunque rappresenta un costo, la possibilità sia di venire informati, ma anche di avere intrattenimento in maniera gratuita. Allora, questo è un altro passaggio fondamentale per rafforzare quello che si dice a proposito dell'importanza dell'emittenza locale. perché è davvero forte il ruolo di legame con le persone, in particolare con le persone più deboli, che l'emittenza può tenere. Ovvio poi la qualità dell'offerta varia moltissimo, ci sono esempi di eccellenza, esempi di bassissimo livello, però la scelta lì poi ovviamente sta allo spettatore e altrettanto ovviamente credo che possa stare a chi deve fare in modo che questo mondo possa continuare a vivere, svilupparsi, magari svilupparsi bene in maniera un po' più innovativa, un po' più fresca, un po' più credibile proprio per quello che è l'offerta che si dà agli spettatori. Ecco, credo che tenerne conto alla base di questo fatto, del fatto che si svolge un servizio pubblico, vero e proprio, sia importante. Ovviamente li vanno misurati la qualità, le persone, i lavoratori impiegati, il successo che si riesce ad ottenere, quindi la quantità di spettatori che ti seguono, appunto, quanto si può poi misurare quanto è servizio pubblico, ma di partenza, anche se uno fa la peggior televisione possibile, comunque offre un servizio pubblico, perché offre la possibilità di svago o di informazione a persone che altrimenti non avrebbero. Allora io, perdonatemi la citazione, non di un intellettuale che si occupa, che da anni studia i media, i new media, ma oggi ho aperto i giornali e mi sono fermata a leggere le dichiarazioni di un personaggio che a mio avviso può essere magari da qualcuno considerato, siamo nell'ambito pop, ma secondo me non lo è affatto, che è Robert Redford. Lui a Venezia ha dichiarato, ha parlato di giornalismo, peraltro Robert Redford non è nuovo al tema, perché in tanti suoi film ha affrontato il tema e ha parlato di giornalisti, della loro vita, della ricerca, della verità. Allora mi ha colpito molto e mi è sembrato, appunto, ho detto oggi vado a moderare e non posso non citare quello che ha detto, ve lo leggo. Lui dice, oggi il giornalismo è in declino, la verità non è un valore, no, sì, dice, la verità non è un valore, è una caccia nella quale quello che conta è arrivare primi, anche attraverso la corruzione. Poi c'è internet, mille voci, ognuna con la sua verità, difficile capire dove ci sono le bugie. Io ho letto questa cosa, ho detto, bene, la penso come Robert Redford, forse non tanto nel dire che il giornalismo è in declino, ma condivido l'analisi, la velocità al posto della ricerca della verità, internet, che è un mare magnum di grandissimo interesse e di grandissime potenzialità, ma che apre delle problematiche sul valore dell'informazione che traiamo da internet, che a mio avviso dovrebbero essere monitorate con grandissima attenzione da tutti. Ecco, queste dichiarazioni di Redford, cosa le dicono Vita? Beh, Redford, non dimentichiamoci, tu l'hai detto, è una delle figure interessanti dell'universo hollywoodiano, anzi è sempre stato, anche in epoca, meno scontata, adesso ovviamente a qualche anno di più, e quindi ha assunto anche un tono di maturità, è sempre stato tra i più critici, tra i più attenti, e devo dire nelle sue esperienze ricorre un po' l'argomento informazione, è uno di quelli che più hanno toccato, e lui ci pone un problema, e ce ne pone numerosi, lo fa con l'autorevolezza che gli deriva dalla notorietà, dalla sua anche serietà, e ci pone con quelle parole diverse questioni. La necessità di riconquistare uno spazio pubblico autonomo per l'informazione, sottraendola alla logica della rincorsa, della notizia pura e semplice, della messa in scena per l'audience, per la cattura di qualche lettore in più, e tra l'altro poi noi parliamo giustamente dei mali italiani, abbiamo avuto il berlusconismo, che è stato un fenomeno non solo politico, ma soprattutto un fenomeno culturale, per così dire, diffuso, che ha portato a delle vere e proprie crisi dell'edificio democratico, anche nel rapporto tra informazione e altri poteri, però lui ha bene in testa anche il mondo anglosassone, che non scherzi, Marduk, insomma, ci ricordiamo quello che è successo con i cellulari, insomma, mondi dove l'informazione di assalto è quella che si è conosciuta anche in qualche film di successo, che senza guardare con cinismo in faccia a nessuno, poteva anche utilizzare, ed è stata un po' una scuola purtroppo, il dolore, le questioni private, come eccessi quasi utili per aumentare le copie, e lui ha in mente questa degenerazione e credo che sogni un'informazione democratica più profondamente ancorata, come dire, alla ricerca della verità, mi pare che lui l'abbia detto, al racconto della storia, della verità della storia, che poi ha il senso di queste nostre battaglie comuni. Poi pone una questione sulla rete, su internet, che è molto seria, che io provo a riassumere in un concetto, proprio perché la rete oggi è decisiva e i nativi digitali, cioè le ragazze e ragazzi che ormai cominciano a essere e come sono, in età di voto e in età anche di entrata, come dire, sulla scena pubblica, ci sono già entrati abbondantemente, ma insomma, siamo dentro questo percorso e i nativi digitali hanno un rapporto cognitivo con i mezzi di comunicazione del tutto diverso da quello delle stagioni, anche solo precedenti. Non parliamo dell'Ottocento, parliamo anche di quelle, non parlo di me, che sono ormai, insomma, su un'età abbastanza avanzata, ma anche quelli che hanno qualche anno di meno di me e che però sono nati dentro la cultura cartacea, analogica e quindi la rete oggi per le fasi, come dire, di movimentazione effettiva della società, la rete è da prendere molto sul serio, non va mai banalizzata, va considerata una grande questione democratica, va studiata, va affrontata con il rigore necessario. è il regno delle libertà, ma deve avere anche un approccio fortemente impegnato. Ecco, questo è un tema enorme che Redford butta lì, però, insomma, io che sono un propugnatore, non solo io, insomma, mi unisco a una folla, per fortuna, di battaglieri contro gli eccessi del copyright, contro le censure di ogni tipo, i babagli, però sono il primo a dire, attenzione, non va bene quella diagnosi che ho letto recentemente su le sciocchezze che si mettono in rete, Wikipedia, cioè alcune forme di scarsa serietà nel rapporto con la verità, insomma, se l'informazione è ricerca della verità, nei limiti di noi esseri umani, ovviamente, è quello il punto di riferimento cui andare, anche la rete non può sottrarsi, però va tutelata da ogni manipolazione, da ogni attacco, tuttavia, ecco, questo è il capitolo che io consegno a un dibattito importante come questo, va un po' tolta dalla eccentricità del nostro dibattito pubblico, la rete, come se fosse, lo stesso nostro segretario Bersani che pure ha risposto e doveva farlo a grillo, per esempio, ha usato la rete del gergo con una frasiologia che ha fatto supporre, lo dico con benevolenza e con affetto, naturalmente, ma un rapporto un po' troppo esterno, diciamo così, quando ha detto uscita dalla rete, la rete è immanente, non è che si entra e si esca, la rete è un pezzo della realtà, il virtuale non è meno reale della realtà fisica, è proprio per questo, però, va tolto dagli aspetti un po' così, centrici, qualche volta folclorici e deve diventare un argomento del nostro dibattito, anche delle discussioni seminariali, la deontologia, cioè non può essere un mondo a sé in cui c'è una sorta di zona grigia che non, no, va affrontato con molta serietà, io ho visto con grande positività, poi mi taccio, non voglio tediarvi, per esempio, nel testo sull'editoria che abbiamo approvato, che ha un po' ripristinato il fondo sull'editoria e ha messo nuovi criteri un po' più decenti di erogazione dei fondi pubblici, questo mi collega alla prima domanda tua, cioè più trasparenti, dei criteri un po' più seri, c'è un articolo, articolo 3, sulla editoria digitale che è importante, perché ha messo sullo stesso piano di autorevolezza l'editoria digitale rispetto a quella classica, questo è un passaggio anche mentale che dobbiamo fare, perché se è vero che l'online tenderà via via, c'è uno studio del New York Times molto interessante, nell'arco di un quinquennio a prendere, insomma, lo switch off è già avvenuto, poi se parliamo anche del digital, ma tra lettori analogici e digital è già avvenuto e aumenterà, allora è fondamentale che quel mondo sia un mondo rigoroso in cui appunto, per esempio, parlo adesso al Presidente della Secretaria della Stampa, siano rispettati i contratti di lavoro, cioè non può essere un mondo che così diventa una specie di appendice strano, ecco, questo mi pare un punto che a suo modo Redford ci ha segnalato e che credo quando parliamo di informazione come il titolo dice qui, al bivio, uno dei bivi è quello tecnologico, c'è il bivio politico-culturale, il pluralismo, la qualità culturale della comunicazione e c'è il bivio tecnologico, guai a sottovalutarlo perché potremmo trovarci con qualche brutta sorpresa, tanti anni fa e tu ti ricorderai, no tu sei più giovane ma ho conosciuto alcuni tuoi colleghi anche all'epoca ero un giovane e io mi ricordo qualche primo dibattito con l'emittenza che allora si chiamava l'emittenza libera, ecco, quando il nostro mondo, quello politico, i partiti si chiamavano con altri nomi però insomma non volle capire il fenomeno 35 anni fa, 30-35 anni fa lo considerò un fenomeno del tutto marginale, quasi un po' in surrettizio, un'improvvisazione di quello e poi alla fine ai noi crebbe la concentrazione berlusconiana e divenne quasi inarrestabile, quasi divenne inarrestabile. non commettiamo lo stesso errore adesso, a tanti anni di distanza guai a sottovalutare questi fenomeni, non sono fenomeni da prendere così sotto, ma vanno presi con la dovuta serietà, con la voglia di capire, di starci dentro, nell'agenda digitale che il governo ha promesso a più riprese, stiamo aspettando il testo del ministro Passera, noi abbiamo detto uno dei capitoli essenziali deve essere la lotta dal digital divide, cioè se è vero che la rete diventa essenziale, tutti i cittadini devono poter entrare nella rete, essere in grado di farlo, se no si rischia un'altra divisione oltre a quella tra chi ha e chi non ha, quella tra chi sa e chi non sa e la miscela può diventare davvero esplosiva. Ecco, per questo è molto importante questo accenno, ho usato Redford a fini, spero di bene, alla rete ed è fondamentale discuterne. Ecco Stefano, internet, prendiamo spunto di qui per parlare di internet, secondo te come si fa un po' di ordine in questo grande mare di internet dove si trova di tutto e dove è impensabile che chi usufruisce dell'informazione su internet abbia tutti gli strumenti per difendersi da bugie, verità, mix di bugie, verità, giornalismo, citizen journalism di qualità che magari c'è e invece di bassissima qualità perché non esistono regole. detto che quando sento parlare di verità legato all'informazione ho sempre delle forti perplessità dico sempre la verità è sempre qualcosa di molto soggettivo mi sforzo sempre di dire che il punto di vista di chi racconta è molto importante questo per relativizzare un po' ma io direi che bisogna fare un discorso generale cioè capire che cosa sta accadendo perché legato alla rete noi in questo momento nel mondo dell'informazione possiamo riconoscerlo oppure no ma stiamo attraversando siamo in una fase di enorme transizione tecnologica cioè che cosa sta accadendo guardate prendiamo i dati sulla raccolta pubblicitaria e sulla vendita delle copie dei giornali in questi primi sei mesi su questo certo pesa anche notevolmente la crisi noi abbiamo assistito a una perdita del 10% degli investimenti pubblicitari sulla carta nella carta stampata e a una perdita all'incirca analoga delle copie vendute in edicola a questo cosa corrisponde corrisponde naturalmente un incremento dei fruttori dei contenuti su internet quindi noi nel mondo dell'informazione sempre più evidentemente abbiamo un problema legato al diciamo così al fatto che la dico in questa maniera qua non è più immaginabile e non lo è più per un periodo molto lungo immaginabile che i contenuti prodotti su internet i contenuti informativi prodotti su internet siano disponibili a titolo gratuito questo è un modello e noi siamo di fronte al fatto che le aziende editoriali ancora non hanno un modello di business credibile che consenta di mantenere in piedi la carta stampata ma con un modello diverso rispetto a quello attuale e al tempo stesso renda disponibile l'informazione online perché guardate detto molto semplicemente faceva prima un accenno vita ai contratti di lavoro se non si arriverà a pagare i contenuti di qualità che vengono prodotti sulla rete molto semplicemente non ci saranno i soldi per pagare i giornalisti o chi li produce e in ultima analisi quei contenuti non saranno più disponibili quindi questo è un tema enorme che va affrontato e che io credo come sindacato dei giornalisti tra non molto tempo apreremo la discussione con la federazione degli editori per il rinnovo del contratto di lavoro e questo naturalmente è uno dei temi che dovremo affrontare abbiamo già iniziato ad affrontarlo ma lo affronteremo ed è sbagliato anche pensare che questo tema riguardi poi solo la carta stampata prendiamo la televisione il numero di persone che fluisce della televisione on demand va crescendo cioè il numero di persone che va a cercare su youtube quel contenuto o sul sito della trasmissione dicendo non è che tu guardi più tutta la trasmissione voglio dire ieri sera so che da Fazio sono stati ospiti due persone mettiamo la camusso e un'altra cosa voglio sentire l'intervista della camusso vado sul sito di che tempo che fai fluisco di quel pezzo lì non dell'intera trasmissione oppure vado ad ascoltare quella canzone quel pezzo di cosa quindi la transizione al digitale l'utilizzo cioè l'utilizzo di internet e ormai cioè chi ha meno di i nativi digitali ormai fluiscono così della televisione ne fluiscono così allora ne dobbiamo tenere conto ne dobbiamo tenere conto perché quello che diceva Vita prima è importante allora come mettiamo ordine io non c'ero però so bene che dalle radio libere siamo arrivati alla più grande concentrazione esistente esistente al mondo di mezzi di mezzi di informazione allora non vorrei risvegliarmi in quello scenario lì quindi come dire anche qua è necessario mettere ordine sono necessarie regole sono necessarie regole che è necessario rispetto dei contratti delle persone che lavorano non possiamo non occuparci delle condizioni di chi lavora e di chi produce informazioni io so che Vita è molto impegnato sulla legge sull'eco compenso ma ne affrontiamo dopo ma non è più possibile che persone che scrivono che lavorano su media vengono pagati 2-3 euro 3 euro ad articolo questa non è solo una questione sindacale che riguarda chi fa questo lavoro è una questione che riguarda la democrazia la civiltà di un paese e questa è un'altra delle cose che noi come sindacato dei giornalisti e mi auguro anche con l'aiuto delle parti politiche più sensibili porremo al centro dell'attenzione del prossimo rinnovo del contratto del contratto di lavoro insomma il momento è delicato io credo che ci siano delle grandi delle grandi opportunità per finire rispondere alla domanda di Sara come si fa far ordine io credo che un po' di caos sia anche una ricchezza nella rete il fatto che ci siano molte voci il fatto che insomma voglio dire queste voci abbiano la possibilità di esprimersi però facciamo attenzione perché poi in tutto questo delle regole debbono essere poste perché altrimenti rischiamo di trovarci su una piattaforma diversa a rivivere lo stesso brutto film che abbiamo rivisto in questo paese negli ultimi trent'anni ecco Giorgio tu una volta la televisione dominavano quello che passava in televisione era raccoglieva la grande audience adesso internet visto che tu parliamo di Rai ma è vista come un un competitor o è vista come un'integrazione non so una domanda un po' strana la mia però sono curiosa di capire dal tuo punto di vista come come vedi questo questo grande sviluppo dell'informazione in rete io parto da un dato nel 2008 non un sondaggio ma più case demoscopiche hanno evidenziato che il 68% degli italiani si formava il proprio convincimento di voto attraverso la tv il 28% attraverso i giornali il resto attraverso la rete tutti sappiamo per rifarci a quello che dicevano Vincenzo e Stefano che c'è stata una inversione di rotta mostruosa in questi 4 anni vedremo il convincimento di voto e l'orientamento di voto da chi sarà dettato nel 2013 probabilmente non ci sarà un grande spostamento ma ci sarà un lieve progressivo abbassamento del potere della televisione per quanto riguarda il convincimento politico ed elettorale degli italiani io però faccio questa riflessione rapidissimamente è vero che c'è una moltiplicazione di messaggi c'è un bombardamento mediatico che ormai prescinde da quello a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa cioè che la televisione veicolava prepotentemente la formazione della pubblica opinione il convincimento di voto l'orientamento politico del cittadino della pubblica opinione però è bene non dimenticare che la proliferazione dei messaggi non hanno nulla a che fare poi con il convincimento della pubblica opinione cioè oggi non puoi più nascondere le notizie uno dei motivi per cui è stato cacciato Minzolini dal Tg1 è sì la pessima gestione e questo lo sa bene Vincenzo ma è dovuto ad un fatto che lui è riuscito a nascondere per quattro mesi e mezzo che il processo Rubi era spazzatura politica ora il sondaggio che una casa demoscopica ha fatto in questi quattro mesi è che il 92% degli adolescenti italiani sapevano di che cosa si parlava quando si parlava di Rubi a prescindere dal Tg più importante del nostro paese dal Tg che faceva più consensi più ascolti per dire che tu non riesci più a nascondere le notizie ma nello stesso momento non dobbiamo pensare che il bombardamento mediatico crescente la proliferazione dell'offerta informativa contribuisca a formare la pubblica opinione qui secondo me si staglia in modo ancora più forte il ruolo che deve avere un servizio pubblico radio televisivo proprio qui un servizio pubblico che non deve essere come dice sempre il presidente Zavoli una sommatoria di faziosità ma un servizio pubblico che deve essere in grado di fornire delle informazioni a tutto campo sotto questo aspetto credo che la RAI possa e debba giocare un ruolo ancora più determinante di ieri proprio perché aumenta l'offerta informativa ma aumenta un'offerta informativa il più delle volte non voglio definire di spazzatura ma il più delle volte che non ha nulla a che fare con ciò che capita veramente nel paese credo che sotto questo aspetto se esiste un servizio pubblico retto anche da un canone cioè da un pagamento di un tributo da parte della pubblica opinione non c'è momento migliore che oggi che è quello di riuscire a fornire delle notizie a tutto tondo e quindi a salvaguardare un principio costitutivo del servizio pubblico che è quello del pluralismo sotto questo aspetto secondo me non c'è bisogno di riscoprire nulla di nuovo che non si debba riscoprire la verità che non tocca al giornalismo riscoprire la verità questo è un dibattito vecchio però ci deve essere un'agenzia informativa capace di offrire tutte le notizie e capace di mettere a confronto le diverse interpretazioni mi pare che oggi più di ieri questo lo possa fornire ancora alla RAI peraltro qualche anno fa ma parliamo già di una decina 15 anni fa quando si affrontava il tema del giornalismo mi ricordo si insegnava anche come valutare le notizie si diceva compra 4-5 quotidiani li confronti e da questo capirai tante cose attraverso il confronto delle notizie viste da punti di vista adesso ti pare possibile e impossibile pensare non c'è più nessuno che compra 4-5 quotidiani al giorno è proprio un'abitudine tramontata io mi sono presa dei dati da una ricerca che aveva fatto la regione l'ordine dei giornalisti della Lombardia non è recentissima nel senso che non è del 2011 risale al 2009 però ci dice molto loro distinguono hanno fatto tutte queste indagini distinguendo fra heavy users light users e non users e internet cioè il fruitore di internet ha utilizza cioè cerca informazioni in rete 6,2 volte a settimana quindi è un heavy users costante abbiamo le tv nazionali 5,2 quindi la tv è ancora al secondo posto la radio al terzo 4,4 il telefono cellulare 3,7 le tv locali 3,3 i quotidiani locali 2,9 i quotidiani nazionali 2,8 quindi conferma anche che l'informazione spesso l'informazione dettagliata su un territorio limitato è a volte più ricercata di quanto lo sia quella più ampia a livello nazionale perché quella la troviamo ovunque invece sapere cosa capita sotto casa nostra forse è un'informazione che abbiamo più difficoltà a trovare in rete e poi abbiamo i quotidiani specializzati 1,7 eccetera quindi questo rappresenta un mondo completamente mutato comunque a parte le mie valutazioni che contano poco ecco rispetto a questo tema di internet Franco dal tuo punto di vista tu che cosa pensi io penso che sia una grandissima occasione per tutti per cittadini e professionisti per l'informazione in generale ovviamente con dei rischi normali naturali molto frequenti soprattutto in un periodo in cui si avvia come è per l'Italia l'accesso a internet di massa perché poi ci stiamo arrivando piano piano però io credo che sia una grandissima occasione e credo che vada affrontata in questo modo la trasformazione questa è un'occasione per innovare sia i linguaggi sia il modo più in generale di fare giornalismo che la parte semplicemente tecnica o tecnologica lo dico anche per le televisioni ad esempio per le televisioni locali questa può essere una grande occasione bisogna capire come arrivarci maturare culturalmente per imparare imparare dall'estero dove magari sono più avanti e dove possiamo capire prendere le parti migliori e comprendere quali sono stati gli errori fatti e poi soprattutto capire che siamo dentro un processo che è in continua evoluzione e quindi cercare di seguire questa evoluzione secondo me è una grande occasione con tutti i problemi che ci possono essere che sono stati sottolineati secondo me è una grandissima occasione perché per l'informazione in sé per l'obiettivo informazione è il meglio che ci possa essere io ho infinite fonti ho infiniti informatori ho la possibilità cioè pensate adesso io non voglio dissacrare nessuno ma io credo che dei primi 10-15 giornalisti che ci vengono in mente della storia del giornalismo italiano con internet ce ne sarebbero stati forse 3 perché gli altri sarebbero stati massacrati nelle cose che raccontavano per imprecisioni per falsità presi subito quante volte sappiamo che i grandi racconti dei grandi narratori ad esempio dei fronti di guerra erano racconti che si diciamo erano realistici non erano reali allora questo in questo senso qua internet costringe tutti sia gli utenti che i professionisti professionisti a darsi una svegliata a muoversi e a cercare di capire appunto come si fa e ce lo chiediamo ce lo chiediamo ogni giorno cerchiamo di migliorare di farlo meglio di trovare il mezzo giusto di trovare il modo giusto perché è vero che a forza di cose gratis non si va avanti questo vale legato a internet e non solo a internet ma questo vale per tutti i settori commerciali quante volte vediamo che i prezzi scendono 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 perché appunto si eliminano tutta una serie di passaggi e come facciamo perché poi vai a vedere dall'altra parte quanto vengono pagati i lavoratori questo vale anche nell'informazione ovviamente però questa credo sia una grande occasione e deve essere un'occasione perché se non la sfruttiamo come occasione comunque ci passa sopra non è che si ferma non è che la fermiamo con qualche con regole o regolamenti possiamo trovare il modo sì di farla funzionare bene ma non di fermarlo tutto questo non lo fermiamo un cenno sul fatto che la corsa ad avere subito la notizia è vero porta a errori anche molto gravi credo che però faccia parte delle cose su cui si deve imparare cioè l'informazione può avere più facce nel senso c'è l'informazione puntuale della cosa mentre sta accadendo io racconto esattamente quel che sta accadendo che non è il racconto della notizia ovviamente quello c'è un altro passaggio e c'è poi il racconto appunto o l'approfondimento allora tutte queste parti dovranno convivere bisognerà trovare il modo migliore per farle convivere ma anche qua se noi guardiamo alle esperienze fuori dall'Italia già vediamo come in alcuni paesi i giornali su carta sono fatti in maniera completamente diversa da come li facciamo noi noi vediamo come i giornali su carta spesso hanno aperture che per noi che noi non troveremmo mai su una prima pagina perché fanno appunto un approfondimento perché quello che è il fatto e come si è sviluppato nei singoli momenti il lettore di quel giornale l'ha già trovato sul sito di quel giornale il giorno prima allora a tutte queste cose bisogna abituarsi sicuramente bisogna abituarsi a leggere le cose anche con facendosi delle domande molto semplici ma è possibile che questa cosa sia capitata e molto spesso se ci rispondiamo non è possibile è proprio così e facendo due verifiche lo troviamo però è una questione di abituarsi di educarsi sia i professionisti che i lettori ma io credo che sia una grandissima occasione per tutto il mondo dell'informazione e chiudo su questo l'aumentare di mezzi e non dico solo internet ma appunto dico anche l'uso dei telefoni il diffondersi della radio che è ormai proprio come non solo per ascoltare la musica ma proprio per sentire i notiziari ad esempio durante i tragitti per andare al lavoro o tornare a casa ha un ruolo importantissimo allora in realtà è vero che i giornali si vendono poco eccetera ma l'informazione viene utilizzata molto di più di una volta perché la gente ha molte più occasioni di incontrarla l'informazione e quindi per chi fa informazione come noi bisogna saperla sfruttare questa occasione il contatto col pubblico è molto ma molto ma molto maggiore a quanto fosse 30 anni fa cerchiamo di usarlo bene allora abbiamo visto questa evoluzione io sono assolutamente d'accordo con Franco che questa sia una grande occasione di cambiamento anche una grande sferzata per il vecchio modo di fare giornali il vecchio modo di fare televisione quindi un'occasione perché il confronto è tale che o ci si adegue si cambia oppure si precipita è inevitabile questo come si concilia con la formazione del giornalista perché continua ad essere una delle professioni più amate più ricercate i giovani continuano a fare tutti i sacrifici possibili anni e anni di attesa per entrare in un giornale per entrare in una televisione spesso con grandissime delusioni perché in questo momento sappiamo che il mercato del lavoro è praticamente bloccato ecco come si tutta questa esigenza di rinnovamento per offrire maggiore qualità che è poi quello che ci chiede chi fruisce del prodotto come si concilia con questo con queste percentuali di precariato che sono veramente a volte scandalose sia nei giornali sia nelle televisioni private nelle retribuzioni di cui parlava Stefano prima io ho letto recentemente sono andata a vedermi questa legge sull'eco compenso di cui si è parlato ho anche letto ma me lo confermerà vita che il ministro Fornero non sembrava molto d'accordo su questa legge sull'eco compenso e che invece in Francia questo sta andando avanti con però su questo forse non ho delle informazioni precisissime ma che invece in Francia questo stava insomma trovando un canale ecco decidere che sotto una certa cifra è vergognoso retribuire quel lavoro perché quel lavoro o vale di più o vuol dire che lo possiamo anche affidare al primo ragazzino che passa cosa che peraltro a volte succede con danno enorme per l'informazione a mio avviso ecco raccontiamo questa legge sull'eco compenso e cerchiamo di capire se c'è qualche possibilità che in Italia si arrivi a stabilire il tetto sotto il quale non si può andare è un problema molto serio io credo che sia una battaglia da fare perché il testo per il momento è bloccato perché è bloccato è tra l'altro un piccolo testo non è niente di che mette semplicemente un criterio di tariffe minime il racconto insomma non ne sapete più di me ma insomma il racconto che viene fatto quando si gira ma non solo ragazze e ragazzi anche persone cresciute che un pezzo viene pagato due euro tre euro quando viene pagato il precariato è persino un concetto ed è una categoria quasi impegnativa diciamo per la realtà dei fatti che è sotto il precariato cioè il precariato è già uno stadio di povertà tra virgolette più regolata siamo di fronte invece a una forma di schiavismo feudale per cui le persone pur di poter immaginare per sé un futuro nel mondo dell'informazione si rendono disponibili a subire delle vere e proprie angherie da parte di editori spesso anche io posso dirlo senza troppe diplomazie da parte di editori in molti casi poi oggetto anche di qualche inchiesta perché poi insomma noi abbiamo messo un po' di pulizia adesso nei criteri di erogazione dei fondi ma c'è una fauna che negli anni è cresciuta di cui spesso tante ragazze ragazzi giovani meno giovani hanno visto in pratica poi la virulenza alla camera era passato un testo in verità concordato qualche tempo fa dall'ordine giornalista nazionale dalla federazione della stampa e con il concorso di chi di noi un po' si è sempre occupato della materia un testo ripeto molto semplice non è che sia un grande diciamo percorso riformatore è un'aspirina però è un'almene un'aspirina alla camera è passato nel frattempo tra la camera e il senato è sopraggiunta la tra virgoletti io ne metto tante diciamo riforma Fornero sul lavoro a quel punto che è successo che in commissione lavoro al senato io mi sono precipitato perché io sono vicepresidente della commissione cultura però come sa Merlo cerco di tenere un po' d'occhio anche altre commissioni anche lui lo fa alla camera e beh è un dovere insomma è un privilegio fare il parlamentare uno si deve dare anche un po' da fare sono accorso subito in commissione e mi sono messo a discutere qualche collega più riluttante che diceva eh ma insomma adesso però pensiamoci meglio però si stava convincendo lì c'è Tiziano Treu c'è Icchino c'è dirigenti sindacali CGL della segreteria nazionale di qualche anno fa Passoni Nerozzi insomma è una commissione con la sua articolazione raggiunto quasi il risultato io mi ero insomma proprio raccomandato vigilavo perché si andasse al comitato ristretto per poi chiudere in commissione in sede legislativa il testo e chiuderla lì è arrivata l'audizione della Fornero ora non lo so la Fornero sarà competentissima bravissima certo è una donna gelida molto dura e lei a domanda ha risposto no questo testo ormai dopo la mia legge è inutile io purtroppo stavo votando un regolamento nella mia commissione fossi stato lì poi mi sono anche rammaricato con qualche collega più amico lei avrei detto ma scusi adesso lei sarà bravissima ma non è che sia un padre eterno adesso tutto è opinabile come dicevi tu la verità è una ricerca complicata dopo l'audizione con la Fornero i colleghi naturalmente si sono un po' spaventati e come si fa adesso e come si fa si fa allora abbiamo riparlato con la Fornero abbiamo cercato insomma abbiamo messo di mezzo il Presidente del Senato Schifani il quale ha incoraggiato devo dire con un atteggiamento che ha sempre avuto per l'informazione molto nella cerimonia del ventaglio anche il Presidente della Repubblica ha incoraggiato lo sblocco di questa vicenda e adesso parrebbe sbloccarsi ecco vi dico questa cosa in tempo reale perché settimana questa potrebbe di nuovo tornare a riunirsi il Comitato Ristretto e io non lo dico come promessa incauta lo faccio davvero mi chiudo lì dentro non esco finché il testo non viene varato perché è un testo doveroso io ho detto anche ai miei colleghi autorevolissimi giuristi del lavoro sai che ogni attività ha le sue lo dico con rispetto assoluto ma io sa quante ne ho io di paranoie ma ogni attività ha il suo e allora di fronte all'obiezione sì però il testo non è ben fatto su alcune cose guardate è una questione davvero politica nel senso più profondo del termine noi dobbiamo varare una legge che dia un incoraggiamento un segno dia una speranza poi naturalmente e quindi introduco un argomento Sara tu hai detto una cosa drammatica facendo gli scongiuri io non sono superstizioso qui non vedo ferro se tornassimo noi a governare nel 2013 in quelle elezioni evocate da Merlo in cui chissà la televisione quanto conterà comunque un po' conterà quindi vigiliamo in commissione appunto di vigilanza ecco una delle cose che dobbiamo impegnarci a fare è una vera e propria riforma cosa voglio dire con riforma è che noi non possiamo accettare che l'Italia sia un paese ormai antropologicamente precario in commissione cultura al senato come quella della camera una delle attività prevalenti è tutto il pacchetto scuola ma è un mondo che non conoscevo direttamente e ci ho messo in naso stando lì in questa legislatura beh è un dramma incredibile cosa non è successo negli anni nella scuola il problema del precariato lì è migliaia migliaia di persone ecco tutto questo capitolo enorme di come portare il precariato a delle vie di stabilizzazione è il tema dei temi noi dobbiamo lavorarci seriamente e cominciare per il programma elettorale siamo vicini siamo a settembre insomma qui il tempo corre nel programma elettorale che mi auguro questa volta non sia un papiello di 270 pagine ma sia una più snella scrittura di punti essenziali il capitolo dell'informazione della comunicazione e del lavoro nella comunicazione deve essere in testa non una varia finale e dobbiamo Giorgio tutti quanti insieme a voi impegnarci perché io penso che il tema del precariato sia uno degli argomenti che riguardano proprio il partito democratico che cos'è se no il partito democratico se non pensa a questo passaggio e guardate è un tema enorme come è per esempio eh scusate per esempio ampliando tu l'hai detto ampliando le fonti possibili di imprenditoria che adesso sono limitate alle vecchie strutture mediate dico vecchie nel senso quelle classiche con qualche fatica con qualche fatica con un'aggiunta di rete qualche pezzettino virtuoso ecco bisogna che diventi la regola cioè dobbiamo immaginare delle forme anche forse più evolute dal punto di vista della negoziazione qui non voglio mettermi in un mestiere che non è il mio cioè trovare dei modelli anche di negoziato che permetterò però di stabilizzare il lavoro anche nei campi in cui oggi è del tutto ovvio che sia precario che sia accidentale che sia quasi un'eccezione io credo che sia un nostro impegno adesso dirlo in due battute però è proprio un tema enorme noi dobbiamo rimettere mano a questo dobbiamo rimettere mano al tema del conflitto di interessi prima si diceva guai a pensare che sia un tema ormai superato e vecchio riformare insomma questo settore c'è un'altra leggina che si è bloccata speriamo di sbloccarla che anche lì è una piccola riforma quella dell'ordine che non è la riforma dell'ordine giornalisti quella è un sogno ancora così ad occhi chiusi aperti no però perlomeno mette un pochettino di sapienza anche nella formazione nella possibilità di entrare nella professione attraverso la formazione e questo è un altro dei passaggi dobbiamo sbloccare anche quella o comunque so di dire una cosa molto seguita perché c'è stata un'iniziativa anche recentemente si è formato un coordinamento dei precari dell'informazione molto vivace che segue quindi non parlo in modo improvvisato sono cose che stiamo vedendo io spero davvero di poter essere utile a questa causa e di riuscire con gli altri colleghi a sbloccare questo testo guarda io te lo dico come una cosa che sento moltissimo non vorrei che si chiudesse la legislatura senza che quella legge sull'eco compenso arrivasse a conclusione Giorgio dobbiamo fare uno sforzo con tutti ogni tanto bisogna anche un po' incavolarsi qui dobbiamo metterci seriamente al lavoro perché insomma l'isolatura ormai è sulla sua fase conclusiva e questa è una di quelle cose da sbloccare tra questo mese settembre ottobre massimo novembre se no rischia di finire nel dimenticatoio ed è un bell'impegno da prenderci qua a Torino grazie io chiuderei con Stefano questo tema precariato io ho letto dei numeri dimmi confermami tu non so a livello nazionale erano numeri dati dal coordinamento il 70% di chi fa questa professione è pubblicista e non è professionista è così a me è stupito questo numero me lo confetto beh intanto tanto fatto che sia pubblicista beh intanto per dare per dare l'idea credo che con Sara che qua vicino abbiamo iniziato più o meno insieme a fare questa fare questa professione allora do un numero per renderle idea abbiamo iniziato Repubblica Sara lavora ancora Repubblica io sono sono invece la RAI allora qualche anno fa circa 20 anni fa Repubblica pagava noi che collaboravamo millerire a riga oggi lo stesso giornale e vi assicuro non è il giornale a riga vi assicuro non è il giornale che tratta peggio i suoi collaboratori paga 0,50 centesimo cioè la conversione lira euro a riga come se 20 anni di inflazione in questo paese non fossero passati e vi assicuro non è il giornale che tratta peggio i suoi collaboratori ve ne sono altri che pagano molto meno questo per dare per dare un numero allora noi dobbiamo uscire da un equivoco nel senso che spesso si pensa che la professione giornalistica sia una professione diciamo così riservata a persone che hanno accessi a buoni stipendi privilegi quant'altro allora tutto questo non è assolutamente vero o meglio è vero per una parte piccola e diciamo così sempre più piccola di chi esercita questa professione la realtà di questa professione è fatta da diciamo così decine centinaia migliaia di collaboratori che invece inseguono il sogno di un'assunzione che arriva sempre più tardi e in molti casi non arriva proprio non arriva proprio ma nemmeno una stabilizzazione di quel lavoro precario molte volte è alle vista allora come dicevo prima questa è una cosa della quale non ci si può non occupare io dico c'è la legge sull'equo compenso ma c'è un'altra misura che io credo la politica potrebbe adottare che quella ad esempio di vincolare i finanziamenti al rispetto delle regole e dei al rispetto delle regole dei contratti e dei tempi di pagamento questo è vero a livello a livello nazionale ma io credo che anche a livello locale potrebbe essere potrebbe essere fatto sarebbe anche un modo per aiutare quella parte di imprenditoria che in maniera virtuosa e in maniera virtuosa sostiene i processi processi di diciamo così regolari potrebbe anche essere legato all'innovazione quanto ai numeri noi abbiamo un enorme problema Vincenzo Vita diceva la riforma dell'ordine è un sogno io spero che non sia spero spero che spero che la riforma dell'ordine possa essere affrontata il dato è questo in Italia c'è esiste un ordine dei giornalisti al quale sono iscritte 120.000 persone questo significa che noi in Italia abbiamo 120.000 giornalisti no perché se poi noi andiamo a vedere dentro appena 60.000 di questi giornalisti hanno una posizione previdenziale accesa non vuol dire solo posizione previdenziale da dipendenti ma anche da collaboratori quindi noi abbiamo in questo momento un ordine ipertrofico all'interno del quale se non vogliamo dire la metà ma almeno un quarto delle persone stanno dentro non avendo diciamo così non avendo né titolo non essendoci ragione un paese vicino come la Francia ad esempio assegna la carte de presse semplicemente alle persone che fanno attività giornalistica e che guadagnano quantomeno 5.000 euro al mese sotto i 5.000 euro è veramente difficile pensare che all'anno 5.000 euro l'anno all'anno sì 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 certo non al mese naturalmente all'anno di reddito è difficile pensare che sotto questa soglia sotto questa soglia uno eserciti la professione giornalistica e questo potrebbe perché guardate che poi un ordine dei giornalisti ipertrofi determina anche delle storture sul mercato il titolo non vale più nulla anche lì chi è giornalista questo è l'altro tema allora sì abbiamo bisogno di questi abbiamo bisogno di intervenire sulla struttura del mercato dell'informazione perché ripeto non è solo una questione che ci riguarda che riguarda noi riguarda la nostra categoria e chi la rappresenta ma riguarda la democrazia la democrazia di questo paese io l'ho detto come dirigente del sindacato dei giornalisti nel prossimo contratto di lavoro credo che noi dovremmo individuare la questione del lavoro pregario sotto il pagato come il punto centrale io dico il problema non è oggi abbassare il salario i minimi contrattuali a chi come me lavora in una grande azienda e prende lo stipendio regolarmente noi abbiamo il problema di tutelare tutti quelli che stanno fuori e collaborano questa è la prima emergenza che noi come sindacato di giornalisti dobbiamo affrontare noi la nostra parte siamo pronti a farla certo da soli questa battaglia non la vinceremo grazie a tutti per essere stati qui questa sera l'argomento è tecnico ma credo che sia interessante anche per chi ascolta grazie grazie a voi buonasera grazie zero cinquanta l'argomento siamo lavorati di nuovo